In principio furono le scritte minatorie sui muri di Caraffello contro l'avvocato Francesco Zaccheo, proprio alla vigilia del processo a padre Graziano, ed adesso un'altra brutta sorpresa per il legale Leccese. Alcuni malviventi, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno spaccato infatti i vetri della sua automobile per rubarne il contenuto. Il frate congolese, sul quale pende l'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere, sarebbe dovuto arrivare ad Arezzo accompagnato dal suo avvocato, ma non ha potuto quindi raggiungere la vela per l'udienza del processo a suo carico. Io spero che non abbiano nulla a che vedere con la vicenda di padre Graziano, però sta di fatto che proprio questa notte, sapendo ormai tutti che padre Graziano deve essere accompagnato da Zaccheo, l'autovettura di Zaccheo venga distrutta. L'autorità farà le sue verifiche, farà i suoi accertamenti e poi si trarranno le conclusioni. Tra i testimoni, chiamati a deporre dal PM Marco Dioni, la tenente dei carabinieri Monica Dallari, che ha coordinato le ricerche della casalinga e le ultime persone che videro guerrina a Piscaglia il 1 maggio 2014. Secondo l'accusa, la donna sarebbe stata uccisa il giorno della sua scomparsa tra le 13.46 e le 14.34 lungo la Marechiese. Ho visto solo la guardina che stava camminando lungo la strada, poi non ho visto nient'altro. Ho detto da l'1.30 all'1.45. Nel momento che l'ho visto io sono sicuro che era il telefono. Sorridente, ecco, mi ricordo. Perché era un tipo, no, sempre giù di corda. Quel giorno parlo al telefono e anche sorridente, dico, si vede che gli va bene. Tra le 14.00 meno 10.00 alle 14.00 e un quarto, perché alle 14.30 mia madre va a letto. Stavo dalla finestra e ho visto quel poco che ho visto. Se avessi saputo quello che stava per succedere l'avrei presa. Intanto spunta dal PC di padre Graziano una ricerca particolare. Dagli accertamenti sulle navigazioni del sacerdote analizzate dal consulente informatico incaricato dal legale di Mirko Alessandrini, emerge che il frate sarebbe entrato nei giorni successivi alla scomparsa di Guerrina nel sito di un castellone di intorno di Firenze specializzato in weekend romantici. C'è una traccia che quel sito è stato visitato. I motivi poi per il quale è stato visitato questo non lo so, però che è stato visitato è sicuro. Se non sbaglio ha navigato in quel sito due volte in periodi diversi, in giorni diversi.